The Tourist è un film dal titolo inglese, di produzione americana, diretto da un tedesco, girato in Italia e interpretato da numerosi divi italiani, scritto da un inglese, ed è il remake di un film francese che si intitolava Anthony Zimmer, diretto da Jerome Sall, regista di Largo Winch 1 e 2, ed era interpretato da Sophie Marceau. In questo film gli interpreti sono Johnny Depp e Angelina Jolie, che giocano un po' a fare Cary Grant e Yves Marisenton l'intrigo internazionale di Hitchcock, almeno nell'inizio c'è una lunga sequenza nel vagone di un treno che ricorda direttamente quel film. Un altro riferimento possibile a Hitchcock è Caccia il ladro, sempre con Cary Grant, perché c'è questo ladro gentiluomo di cui molti ignorano l'identità e che forse vuole tornare in attività. Qui abbiamo un protagonista che non si sa se sia la persona che tutti pensano, c'è una persona che ha cambiato identità, ha proprio anche cambiato fattezza e quindi nessuno è in grado di riconoscerlo, e c'è un gioco di gatto col topo tra Johnny Depp e Angelina Jolie, che fa La Femme Fatale. Dicevo che era un film pieno di divi italiani, ci sono Neri Marco Re, Christian De Sica, Alessio Boni, c'è Renato Scarpa, c'è Giovanni Esposito, c'è Nino Frassica, una quantità di volti riconoscibilissimi in piccolissimi ruoli, perché si girava in Italia, in gran parte il film è girato a Venezia. La sceneggiatura, basata, dicevo, sul film Anthony Zimmer, è scritta da altri due nomi importanti, perché uno dei due sceneggiatori è Julian Fellows, romanziere e sceneggiatore inglese, l'autore del celeberrimo e popolarissimo Downton Abbey, e l'altro è Christopher McQuarrie, che è uno che lavora da tempo con Tom Cruise, ha diretto l'ultimo e sta dirigendo il prossimo Mission Impossible, ha scritto Edge of Tomorrow, ha diretto Jack Reacher, per cui è uno che sa gestire l'azione. È un film d'azione e di divertimento e di dialogo completamente senza pensieri, che ci mostra come spesso accade in modo inedito il nostro paese, perché Venezia vista dagli americani è diversa da Venezia vista dagli italiani, e che insomma spero che vi divertirà come è divertito il pubblico in sala.